Autori della regione, abbiamo invitato anche dalle regioni vicine, dalla Toscana, abbiamo invitato la Came, abbiamo invitato Checco Frongia, ma Dario Grillotti non è bolognese proprio doc. Di sicuro io non sono bolognese, anche se ci abito da 25 anni, però le Ortolani la sera è tornato a dormire a casa sua perché è vicinissimo ai luoghi che abbiamo visitato. Così Matteo Buffani e Ria Ponetti sono nella zona tra Parma e Piacenza e quindi sono stati ben felici anche di essere protagonisti di questo modo di reinterpretare il territorio in cui loro sono nati, alcuni di noi ci vivono ormai da tanto tempo e hanno, come me, una voglia di conoscere e di entrare ancora di più in sintonia con il territorio che viviamo.